Che cazzo succede? Il caino non c'è verso? Ma se partiscono la pesciata? Ha provato, ha provato A casa, però Questa qui ha detto che c'è una differenza enorme tra 290 e 300 Per me è uguale Dai, 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 dai Un passacomettissimo, dai Non c'è come se volevo, dopo un ventino di bagno Quando l'ha provata, non c'è stato per un coserazio Lo spillo che non è andato giù E il Fabietto dov'è? Ha messo l'aglio del motore nella micela e non viene Sani, sani, sani che erede Grazie Grazie Grazie